beh iniziamo il video così sempre con... sto passando una cazzo di ruendi durante il video capirete dove siamo oppure dal titolo del video direttamente forse però non ve lo dico ancora e comunque ci facciamo un giretto siamo venuti qui a fare foto perché il mister non c'era ancora avvenuto in questa zona e quindi niente questo vi so che è più di un anno quasi che non carichiamo video di uscite così oggi ho detto massimo dai lo facciamo un e quindi lo facciamo esatto e poi vedrete in azione anche un'altra cosa dopo durante il video magari se il mister ce la consente poi metteremo anche qualche immagine su questo video del suo video abbiamo trovato una tratta no 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 bene il giro qui in questa casa ce lo siamo fatti abbiamo fatto due foto poi vi vedrete e dopo aver fatto una strada allucinante per arrivare Siamo arrivati qui Stupendo ragazzi Siamo in fase di preparazione Non so cosa stia facendo il mister Facci vedere cosa stia togliendo fuori Il cucciolo di Dino E ci stiamo preparando al decollo Ora ve lo farò vedere E questi siamo noi E ci rivediamo in volo E ci rivediamo in volo E ci rivediamo in volo Bene, il volo l'avete visto Questo era il comandante Schettino, schettino, schettino Vediamo un po' cosa ne uscirà Da questo video Questo discovery shot Diciamo che Non abbiamo scelto la giornata migliore Ma neanche la peggiore Doveva andare peggio Poteva neviccare Comunque abbiamo fatto un po' di foto Un po' di video con il drone Che sicuramente avete visto Prima di questo Di questo spezzone qua Adesso faremo un paio di riprese così a random E adesso in questo momento partirà la musichetta di sottofondo Un po' di video ora ci stiamo spostando fa ripetere un po' di sabbia oggi vi stiamo portando in bei posti allagati, pieni di buchi, strade dissestate la tesla si è fermata, che è successo? guardate il cazzo di sportello di questa macchina quando hai il money quando hai il big money però devi pisciare lo stesso all'aperto giusto no, però basta capire lo sportello pincia come vi ho detto ci siamo fermati altra location laveria e anche qui droneggiamo quindi ci sarà qualche spezzone di video forse incidentiamo anche e forse incidentiamo però vi metteremo quel pezzo nel caso che palle se ci sarà, speriamo di no ma se ci sarà lo metteremo insieme alla mia caduta in piazza esatto a 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 adesso andiamo a vedere dal basso forse troppo basso se può ma c'è riuscita no sta iniziando a piovere ma noi ce ne fottiamo altamente andiamo a vedere qualcos'altro tipo qui non c'è un cazzo allora saliamo di più e poi questi erano gli scivoli per i minerali scaletta piccolina piccolina piano che li sento vibrare piano che li sento vibrare male ma poi siamo saliti qui non c'è un cazzo va 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 ecco qua la cazzata no oggi non vuole tornare sano no No E' la tutta la roba per ,, ahahahah qui è d'acqua mixed o sto a vedere E guarda quest'acqua Questo dove c'hai i piedi Il fiume si riempiva di questo Si unisce all'altro Si uniscono tutti Ci ammazziamo adesso E' scritto Per darvene la prova Adesso mi metterò la GoPro In modo tale che voi vediate Che stiamo facendo Ok, così potete vedere cosa stiamo facendo Io non c'ho grip con queste scarpe Ok, ok, ok Ok, 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 ok I'm a top 5 new nigga No debatin' Givin' out the scriptures Man, that shit's forsaken I've been going in with the pics Eat no bacon The detachment of a culture And some small fragments These distractions are bound to happen Due to constant passion Up some fashion And some ass clapping Ok, 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 ok Ok, ok, ok Abbiamo finito il giro Abbiamo fatto delle belle foto Dei pay video Questo è la seconda volta che faccio la fine del video Perché la prima c'era sottofondo musicale E YouTube mi avrebbe bloccato tutto Quindi l'ho dovuto rifare Perché me ne sono accorto Stiamo salendo su Stiamo salendo su E niente Beh, come ti è piaciuto? Sì, abbastanza Soprattutto le ultime cose scattate dall'alto Perché non le scattate Non le scattate Non so, vedeva le scattate Invece niente Vabbè Noi ci rivediamo al prossimo video Un saluto a tutti Condividete Bye Mi raccomando Seguite Ligas su Instagram Com'è? Ligis Ligis In modalità stand by Devo prendermi il caffè No, al massimo ci fermiamo A prenderci il caffè Ciao a tutti Ciao Ciao mio Ciao